Bravissimi. Ecco, proseguiamo con un altro duo, questa volta flauto e pianoforte e invito qui Ada, il papà Emilian, duo Emiliada che suoneranno per noi romanza Opus 44 numero 2 di Paul Mercus. Grazie. 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 Vorrei soltanto fare un augurio a questo splendido duo, padre e figlia. Lascia che l'armonia regni sempre nella tua vita, possa la gioia ogni tanto rompere il silenzio con i suoi accordi solenni e che la musica risuoni sempre nel tuo cuore. Grazie. Per tutti voi. Grazie. 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 Grazie.